Un imprenditore cilentano teneva su un'agenda la contabilità della ditta, ricostruite vendite in nero per 830.000 euro e disposto il sequestro per equivalente di oltre 345.000 euro. Ad operare, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, i finanziari del Comando Provinciale di Salerno, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni e disponibilità finanziarie fino ad arrivare appunto ai 345.000 euro. A finire nei guai il titolare di una ditta individuale nel settore della silvicoltura indagato per i reati di dichiarazione infedele ed occultamento o distruzione di documenti contabili. Le indagini condotte dalla tenenza di Vallo della Lucania hanno preso il via dopo il rinvenimento di documentazione extra contabile durante una verifica fiscale nel corso della quale i finanziari erano entrati nell'azienda. I militari avevano in quel caso rinvenuto un'agenda occultata sotto un divano nella quale erano annotate in maniera puntuale le fatture di vendita effettivamente emesse negli anni. Dal confronto con le registrazioni contabili sono emerse così circa 830.000 euro di vendita effettuate ad un cliente del brindisino, documentate dalle fatture di volta in volta rilasciate all'acquirente, documenti dei quali però non vi era traccia alcuna nei dati ufficiali. In questo modo è emersa un'evasione fiscale quantificata in circa 350.000 euro. Le indagini bancarie avviate per riscontrare le movimentazioni finanziarie dell'impresa hanno confermato l'effettivo incasso dei pagamenti a fronte delle operazioni di vendita non dichiarate. La Procura di Vallo dunque, oltre al sequestro, ha disposto la perquisizione dell'abitazione dell'imprenditore per rinvenire in particolare denaro, preziosi, beni mobili ed ulteriore documentazione bancaria utile ad individuare le disponibilità finanziarie dell'indagato.